Sono tornati in procura ad Arezzo i genitori di Martina Rossi, la ventenne d'Imperia, che precipitò il 3 agosto 2011 dal sesto piano di un'hotel a Palma de Mallorca per parlare con il PM Roberto Rossi. Un incontro volta a comprendere a quale punto sia arrivata l'inchiesta sulla morte della loro figlia. Secondo i genitori Martina si sarebbe gettata dal balcone per sfuggire ad un tentativo di violenza sessuale che potrebbe essere stato messo in atto da parte dei due giovani di Castiglion-Fibocchi. A breve il procuratore capo Roberto Rossi ed il PM Giulia Maggiore decideranno se rinviare a giudizio i due eretini per morte come conseguenza di un altro reato e tentata a violenza sessuale. Il caso è destinato comunque a finire davanti al GIP, in quanto anche nel caso in cui la procura non dovesse chiedere il rinvio a giudizio, la parte civile, ossia i genitori di Martina assistiti dall'avvocato Luca Fanfani, faranno ricorso contro un'eventuale archiviazione. Negli scorsi mesi la salma di Martina era stata riesumata per essere sottoposta ad una nuova autopsia nel tentativo di far chiarezza su cosa possa essere successo all'interno di quella stanza di un albergo alle Baleari. Ma l'esame autoptico non aveva aggiunto ulteriori elementi di spessore. La procura a breve dunque potrebbe chiudere le indagini e decidere se il procedimento sarà archiviato o se ci sarà un rinvio a giudizio per i due giovani.